Interviene Mino Borracino, pronto patto strategico con Leonardo S.p.A. Ho inviato alla Leonardo S.p.A. una nota formale con la disponibilità a sottoscrivere il patto strategico tra Regione Puglia, Assessorato allo sviluppo economico, e la stessa Leonardo S.p.A. Ritengo che ci siano le condizioni affinché la stretta collaborazione fra Leonardo S.p.A. e Regione Puglia, già in atto con contratti di programma del valore di alcune decine di milioni di euro, si possa rafforzare ulteriormente. Leonardo, sottolinea Borracino, è presente in Puglia con i siti produttivi di Brindisi, Foggia, Grottaglie e Taranto. Nel 2018 la società ha emesso ordini per un valore di circa 44 milioni di euro nei confronti di 118 fornitori pugliesi che a loro volta hanno creato nuova occupazione. Siamo di fronte quindi ad una realtà industriale che ha un peso significativo sull'economia pugliese. Proposto di incontrarci nel corso del prossimo mese di settembre, spiega Borracino, per definire le intese di individuare insieme una data per la firma del patto, anche alla luce dell'annunciata volontà di Leonardo di proporre due nuovi contratti di programma, uno per Foggia e l'altro per Taranto per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro con ulteriori ricadute positive per l'occupazione e per le piccole e medie imprese locali.